Molti mesi fa, quando ci rendemmo conto che gli uffici di prevenzione avevano bisogno di un sostegno per fare le cosiddette indagini epidemiologiche, immaginammo di richiedere la collaborazione delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono rapidissime nel fare le indagini per individuare i contatti stretti delle persone contagiate o in quarantena. E quindi oggi chiudiamo questa principale funzione del protocollo. Ma abbiamo aggiunto anche altri elementi. Vorremmo tutelare le forze dell'ordine anche attraverso screening programmati che tutelino la loro salute. Le forze dell'ordine sono ovviamente molto esposte da questo punto di vista e nel momento in cui le impegneremo direttamente nella lotta al Covid e nelle indagini epidemiologiche che diventano, tra virgolette, parte del sistema sanitario pugliese. Questi due elementi sono l'oggetto di questa collaborazione odierna.